Environment Park è da sempre impegnato nel supporto delle imprese della Regione Piemonte in processi di innovazione come fattore di competitività e di sviluppo del territorio stesso. Per noi quindi l'adesione al progetto Upware è un'opportunità di indagare meglio quelli che sono oggi fabbisogni delle imprese impegnate nel settore della Green Economy in termini di formazione professionale, di formazione delle risorse di cui hanno bisogno e dall'altro metterle in contatto con il mondo della scuola e della formazione professionale che a sua volta può dare un contributo importante rispetto a quello che è il tema della Green Economy.